Una vasta perturbazione sul Mediterraneo occidentale inizia ad interessare la penisola a partire dalle regioni più occidentali. Nelle prossime ore, passaggio di un attivo fronte freddo preceduto da venti di Scirocco e seguito da forti venti di Libeccio, attese precipitazioni sparse con calo delle temperature, neve in montagna, forti venti e mareggiate. In Toscana, sabato 4 marzo perturbato, con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, più insistenti sulle zone settentrionali. Neve oltre 1.300-1.400 metri nel pomeriggio sull'Apenino settentrionale, in calo fin verso i 1.100-1.200 metri in serata. Venti, forti di Scirocco in rotazione a Libeccio dal pomeriggio, mari mossi in aumento a molto mossi o agitati in serata, mareggiate in serata sulla costa centro-settentrionale. Temperature stazionarie le minime, in calo le massime, con valore attorno a 14-15 gradi. Sul territorio provinciale, molto nuvoloso, coperto, con piogge diffuse e locali temporali. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 9, massima 15 gradi. A Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 6, massima 15. A Viareggio e sul litorale, minima 10, massima 16 gradi. Domenica, nuvoloso, molto nuvoloso, con piogge alternate e schiarite. Temperature in calo.